Allora Giuseppe, questa serie ruota intorno alle seconde possibilità. Tu ci credi e ti chiedo anche come evolverà il rapporto con Blanca. Guarda, sì è vero, in realtà in qualche modo vengono fornite e messe in campo tantissime chance di potersi rimettere in gioco in termini di seconde possibilità. Io fondamentalmente ci credo, ma soprattutto credo nella possibilità di dare le seconde possibilità a se stessi, in qualche modo, più che concederle agli altri o sperare inutilmente che gli altri possano concederle a te. La seconda possibilità è qualcosa che devi concedere a te stesso, senza alcuno spirito critico, semplicemente sulla scia e sull'onda emotiva di quello che ti deve portare, di quello che ti porta a volere necessariamente qualcosa. Ed è quello un po' che tutti i personaggi poi che vengono messi su carta fanno. La drammaturgia si muove nell'impellente esigenza della ricerca di qualcosa. Se non ci fosse quella non ci sarebbe drammaturgia. Quindi ci credo fortemente e i personaggi, rifacendo sempre la tua domanda, la seconda parte della tua domanda, sì, subiranno una grandissima evoluzione in termini non amorosi, legati alla sfera amorosa del legame uomo-donna, ma ci sarà sicuramente una bellissima evoluzione di sentimenti e Liguori la viverà anche nella sua sfera privata, familiare, anche al di fuori del commissariato. Gianno, ho notato che questa serie vira di più verso il crime, ma anche verso l'action. Ci sono molte scene di action, quindi immagino che l'impegno sia stato maggiore. C'è stata una scena in particolare che è stata difficile da girare? Beh, ci sono delle sequenze molto lunghe quest'anno. Nella prima serata che tu penso abbia visto, per non spoilerare nulla, ma c'è una lunga sequenza finale dove si pensa di risolvere il caso del polibomber, cosiddetto, ed è una sequenza che vede, come dire, che inizia a dettare un conto alla rovescia e si risolve poi con l'intervento dei nostri eroi. Quella è una lunga sequenza, se ci pensi, e io l'ho trovata molto interessante da girare ed è stata girata chiaramente su più giorni. Quindi, che sia stato più complesso dell'anno scorso, cioè della prima stagione, no, perché anche la prima stagione aveva le sue complessità. Diciamo che una volta che tu hai fatto la prova generale con una season one, quando poi ti metti sul seguito sai già cosa ti piace, sai già quali sono, come dire, le corde da toccare, no? Quindi è bello. E anche questa stagione, diciamo, fondamentalmente ti racconta come un impedimento può diventare una grande occasione, come Blanca rappresenti anche qui il vero supereroe, cioè quel qualcuno che non è vero che non inciampa mai ma che sa rialzarsi. Quindi l'importante è rialzarsi e andare avanti. La scena del tapirulano, che sembra una banalissima scena di commedia, in realtà è un pochino il fil rouge del personaggio di Blanca. Io sbatto la faccia ma mi rialzo. Grazie mille. Grazie.